Il piccolo sinodo della montagna voluto dal cardinale arcivescovo al termine della sua visita pastorale nelle parrocchie della zona montagnosa della diocesi avrà domenica prossima la sua inaugurazione ufficiale. Terminata la fase preparatoria che ha visto impegnata tutta la compagine ecclesiale delle parrocchie interessate il piccolo sinodo entra ora nel suo momento più importante di riflessione e di confronto la cerimonia di apertura avrà luogo domenica pomeriggio presso il Cenacolo Mariano di Borgonuovo con una liturgia della parola preseduta dal cardinale arcivescovo alle ore 15 e 30. La nostra emittente insieme a Radio Nettuno seguiranno l'evento con collegamenti diretti e approfondimenti in studio 12 porte e vi darà conto ampiamente nella puntata di giovedì prossimo.